La mia presentazione oggi qui è stata prevalentemente focalizzata sulle montagne dei Carpazzi, appunto le montagne del centro Europa e abbiamo tentato anche di dare una piccola dimensione di quello che stiamo tentando di fare all'interno dei sette paesi carpatici per quello che riguarda lo sviluppo sostenibile delle aree di montagna. Adesso è stato molto importante essere invitati qui da Federparchi a questo importantissimo convegno di Simbola per condividere un attimo le diverse attività che abbiamo in comune anche con le montagne degli Appennini. Gli Appennini sono fondamentali, sono una catena montuosa che va protetta e difesa e a mio avviso di sicuro la convergenza delle diverse esperienze che sono già state raccolte nelle Alpi, nei Carpazzi ma anche in altre catene montuose può essere assolutamente fondamentale.